Ciao ragazzi! Ciao! Ciao a tutti! Ehi, ma che è buio là! Ehi, girati! Di qua! Di qua! Gli ultimi di qua! Erano di qualo? Ma perché sono entrati da indietro? No, non ci vedi da... Questo è il portale! Ah, io pensavo che era il pubblico! No, io non ti vedi così! Di nuovo! Io pensavo che era il pubblico che non era il pubblico! Con tutto il pubblico! Ciao, ma non ti dico! Oh, glielo dico, glielo dico! Oh, siamo venuti qua stamattina! Oh, glielo dico, glielo dico! Oh, glielo dico io! Glielo dico io! Glielo dico io! Glielo dico io! Oh, siamo in portale a tirano, no? Che siamo partiti da Casinopoli! Io e Pino! Siamo venuti qua perché ci hanno detto, no? Che dopo tiene paura, che è simpaticissimo, che fa ridere! Eh... Eh, eh... Ti... Ci sembra che me ne vengono presentati! Siamo presentati! No, non io e te! Cioè, io sono a giro e cercato! Invece lui è Pinolo Sordo! Io l'ho morto! No, ha detto che il nome è Pinolo Sordo No, è un po' duro d'orecchie, però bravo No, ha detto che c'è il tuo nome